Basta davvero poco, anche magari un fraintendimento, una ragazzata, una gogliardata per creare una tragedia. Il fuggi-fuggi generale, il panico, persone calpestate, oltre 1500 feriti, la finale di Coppa dei Campioni. Le immagini di Torino inevitabilmente hanno richiamato alla memoria la tragedia dell'Aisel, esattamente 32 anni dopo. Due vicende diverse, ma che per tanti motivi si ritrovano accomunate e che hanno fatto sobbalzare chi, all'Aisel, ha perso un proprio caro e da anni porta avanti una battaglia di memoria e giustizia. Sicuramente dal punto di vista della dinamica ricorda molto quello che è successo a Bruxelles, proprio perché il panico ha creato poi delle reazioni incontrollate. Sicuramente per me, per chi comunque ha perso un familiare a Bruxelles, sono sempre immagini che fanno male, anche se sono state due situazioni completamente differenti, proprio perché sono state originate da situazioni che non sono paragonabili. Il nostro pensiero come associazione va innanzitutto ai feriti, in particolare a chi in questo momento è ancora in ospedale in gravi condizioni, una preghiera per quel bambino sperando che si possa riprendere quanto prima. È un pensiero appunto a chi in questo momento vive ore di angoscia e di ansia per i propri familiari. Dimostra comunque che bisogna continuare a parlarne, perché sarà stata una cagazzata, quello che vogliamo, però chi l'ha fatta forse neanche conosceva, cosa può voler dire creare il panico in una situazione del genere. Parla di oltre 30.000 persone in una piazza che probabilmente ne poteva contenere la metà, vie di fuga che non erano state predisposte, quindi questo fa pensare, perché poi quando ci sono eventi sportivi o di altra natura con tante persone, basta poco per creare il panico e poi il panico può avere conseguenze incontrollabili.